buongiorno a tutti allora felpettina come sempre da bruch e freddo che fa perché dobbiamo parlare di sci e quando c'è lo sci c'è la felpettina da bruch e freddo che fa comunque slalom speciale maschile da slamming che si è disputato martedì cioè ieri pomeriggio sul tardi prima manche vediamo com'è andata perché è un ottimo pazzerello feller è in testa davanti al solito fosse oleva che ci sta provando gusta è l'ultima gara la vinta adesso è secondo è sempre lì come il prezzemolo fosse oleva che ha 39 centesimi appunto dall'austriaco e poi c'è michael matt al terzo posto che invece ha 67 centesimi poi via via tutti gli altri ma ne parleremo quando faccio la classifica per quanto riguarda gli italiani purtroppo ci si sono qualificati solo in due il grande vecchio manfred che probabilmente si arrabbierà perché gli do del grande vecchio ma è il nostro veteranone che rugisce ancora rugisce ancora al settimo posto grande libidine e poi stefano gross che per ora è diciottesimo ma speriamo riesca a entrare almeno nei 15 che sarebbe tanta roba e catombe invece agli altri della valanga azzurra che è sempre meno valanga almeno per quanto riguarda lo speciale perché poi delle altre discipline se la cavicchiano dai certo non al livello delle ragazze però se la cavicchiano un po di più anche perché vinazzer che è la nostra punta di diamante da cui ci aspettiamo tanto niente ultimamente se dopo il terzo posto che ha fatto a inizio stagione basta si è stufato non so cosa gli è successo cadute cadute e oggi trentaduesimo quindi non si qualifica quarantesimo sala poi sono usciti caslugger caslugger spero di averlo pronunciato giusto e non mi picchi razzoli e morberger la classifica comunque dopo la prima manche vede feller come dicevo al primo posto fosse alle vaga secondo matte terzo il gigante buono zenosa anche sempre lì è sempre in zona sempre dei primi cinque o giù di lì e quarto comunque zenosa quinto noel sesto schwarz settimo il nostro molti ottavo grange nono pop of e dieci buco rossi lo devo dire che può prove conosci non sono sempre lì rai di un poco conosci non sono sempre tendenzialmente li oggi rai di che era un attimino più più indietro però conosci lo è sempre dei dieci bassica quella zona lì e come dicevo diciottesimo grosso bene inizia comunque la seconda manche dello slalom speciale di slamming e il prima scena è l'americano seymour seymour spero di averlo pronunciato giusto vediamo quale sarà il suo tempo finale se riuscirà a sfruttare appieno il fatto di partire per primo no ne combina di ogni sembrava fantozzi che arrivava giù a rotoloni comunque alla fine riesce ad arrivare con un tempo clamoroso di 2 0 4 e 84 però vuole arrivare in fondo ha sbagliato ha fatto scaletta è rientrato poi ha sbagliato si è riportato ci ha fatto di tutto però alla fine è riuscito ad arrivare in fondo non prenderà punti ma almeno la soddisfazione di dire ho finito la seconda manche ho finito la gara tocca ad eric reed 29esimo dopo la prima manche 10 secondi di vantaggio 10 centesimi scusa 10 secondi 10 centesimi di vantaggio ma visto quello che ha combinato l'americano il vantaggio finale a cui arriverà in fondo è relativo infatti il suo vantaggio finale di ben 16 secondi e 96 anche lui guardava il tabellone un po basito diciamo perché di solito sei davanti di un secondo secondo e mezzo esagerando ma 16 secondi e 96 è clamoroso però è ripeto lo sciatore italiano e americano ha giocato a arrivo fino in fondo anche se ne combino di ogni tocca a von gruningen 28esimo dopo la prima manche vantaggio di soli tre centesimi gara interessante anche perché incrementa il suo vantaggio si prende al primo posto con 62 centesimi appunto di vantaggio scusate la ripetizione di vantaggio ma non trovo altro termine se avete dei termini da consigliarmi sono ben accetti tocca all'illustrasser 27esimo dopo la prima manche vantaggio di 13 centesimi ma dopo aver man raddoppiato a 26 centesimi in forca clamorosamente mentre stava sciando io dico da profano da uno che ormai lo sci lo guarda ma non sono un maestro di sci mi sembra stava stessa sciando abbastanza bene dai come direbbe veda mannaggia anzi a proposito tra poco più di un mesetto dovrebbe ripartire un mese e mezzo più o meno riparte anche moto gp formula 1 eccetera ci sarà da ci sarà il gigione che impazzirà perché tra formula 1 moto gp e tutto il resto e anche sci perché poi lo sci va avanti fino a fine marzo più o meno sempre che non lo riblocchino ma non credo quest'anno ormai si va avanti anche se ahimè senza pubblico proseguiamo perché tocca a christophersen grave errore nella prima manche solo ventiquattresimo con un ventaggio di 19 centesimi po pochino ha fatto un po di errorini si è salvato alla fine è arrivato in fondo lo stesso è riuscito a qualificarsi con il ventiquattresimo tempo a pari merito con stroll se non se non sbaglio vediamo cosa combina in questa seconda manche signori christophersen una manche la sbaglia la seconda no e infatti si prende alla grande il primo posto con ben un secondo e 04 di vantaggio dei 15 con questo con questo risultato mi sa che c'entra facilmente nei 10 punto di domanda ci mettiamo un punto di domanda vediamo che succede io intanto qua ho la classifica della prima manche che sapete poi faremo la comparazione ma andiamo a vedere cosa combina il nostro stefano gross che deve provare a stare davanti allo sciatore norvegese che ha già recuperato dalla ventiquattresima siamo alla diciattesima sei posizioncine vantaggio interessante 35 centesimi per lo sciatore italiano vediamo se gli bastano per stare davanti a al norvegese una buona prova è secondo con solo 36 centesimi di ritardo si può recuperare qualche posizioncina per ora ne ha persa una però credo che qualche posizioncina la riuscirà a recuperare lo stesso perché c'è stato bello vicino come la cozza sullo scoglio tocco all'americano ricci prima qualifica in coppa del mondo vantaggio di 44 centesimi e diciassettesimo nella prima manche pronti via e subito fuori ancora prima del primo intermedio io non ho veramente parole cioè almeno scendi tranquillo portati a casa sei diciassettesimo scendi giù la gestisci come ha fatto qualcun altro ti accontenti di arrivare recuperi anche qualche qualche posizione per il pettorale no è andato giù secco e puff comunque là dopo la discesa degli atleti dalla trentesima alla sedicesima posizione christophersen zitto zitto cacchio cacchio è sempre al primo posto al secondo c'è augan al terzo c'è gros che quindi male che vada manterrà la diciottesima posizione della prima manche al quarto c'è riding al quinto c'è marchant al sesto c'è strolls al settimo von grüningen all'ottavo nef al nobdo buffa gendè e al decimo c'è ride tocca a milliard quindicesimo dopo la prima manche vantaggio di 53 centesimi gran bella gara che fa addirittura emozionare la fotocellona al traguardo che non scatta e infatti non si non si capiva se l'ultima la penultima porta l'avesse presa o meno perché c'era il tabellone si è visto lui che passava ma non si vedeva l'ultima la penultima porta e ho detto non è scattato il il meccanismo si vede che ha inforcato e quindi in automatico non è scattato invece si era emozionato comunque si prende il primo posto con 51 centesimi di vantaggio ne perde soltanto due dal vantaggio che aveva e attenzione perché questa potrebbe essere una manche da primi dieci posti attenzione però tutto può accadere tocca a pinturo undicesimo dopo la prima manche vantaggio di 34 centesimi sullo svizzero che quindi è lì lì e male che vada sarà dodicesimo però vedremo una gara alla grande anche di pinturo in stile christophersen e in parte in stile milliard perché comunque christophersen ha fatto un garone e si prende il primo posto con la bellezza di 85 centesimi di vantaggio attenzione perché pinturo quando ti tira fuori le seconde ma è così e non dico altro comunque quando mancano a scendere i migliori otto pinturo e primo popove secondo corosci nove terzo milliard e quarto quindi per ora sarà dodicesimo al quinto posto c'è pert al sesto c'è christophersen che si è fermato per ora perché se male che vada sarà quattornicesimo a più dieci posizioni recuperate già una libidine quindi dentro nei quindici c'è al settimo c'è augan all'ottavo c'è grosche quindi male che vada sarà sedicesimo recupera due belle posizioncine al nono c'è riding e al decimo c'è marchand bene 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 allora grange non riesce a stare davanti a pinturo vediamo se ci riesce il nostro manfred mong manfred mong l'altra volta vi ero dimenticato ho detto manuel anziché anziché manfred gli avevo chiamato in un'altra maniera manfred mong e manuela mong sono i due fratelli manuela si è ritirata manfredone è ancora lì che lotta vediamo cosa combina era settimo dopo la prima mascia ben 74 centesimi di vantaggio purtroppo è solo quarto con 76 centesimi di ritardo con il secondo a 4 centesimi e il terzo a solo un centesimo bastava un nulla un nulla perché 4 centesimi sono nulla e poteva essere secondo attaccato lì come una cozza a pinturo e invece solo quarto in ogni caso entrano i dieci male che vada sarà decimo visto che ne mancano solo sei quindi va bene così va bene così lo stesso tocca a marco sfarz perché anche qui no anche qui niente è sesto marco sfarz quindi 84 centesimi di vantaggio sesto dopo la prima mascia anche lui ottima gara perché perde solo due centesimi del vantaggio che aveva e si mette al primo posto con vista podium perché comunque 82 centesimi di vantaggio libidine e vediamo che succede cosa combinano gli altri perché comunque ha fatto una gran bella gara e infatti ahimè sia noel che zenose gli finiscono dietro quindi adesso tocca a matt che era terzo dopo la prima manche vantaggio di poco 22 centesimi vediamo se gli bastano per stare davanti al simpatico sfarz suo compagno di squadra tra l'altro troppi errori e poi per cercare di recuperare va a inforcare una porta e cade proprio a pelle di leone perché praticamente pronti via al terzo dal secondo intermedio al terzo intermedio era 1 e 10 se ne ha fatto troppi errori ha provato a forzare di più come si suol dire è finito secco della della porta e è burlaggio come se dice a milano quindi deve salutare anzitempo la gara e quindi male che vada il simpatico sfarz è già a podium tanto il podio se ne è già messo in saccoccia adesso vediamo se fosse oleva lo spedisce dietro o se no aumenta ancora un podio perché adesso tocca a soleva che a 50 centesimi di vantaggio e secondo dopo la prima manche anche lui purtroppo non all'altezza è solamente quarto con un ritardo addirittura di un secondo e 09 e adesso tra sfarza e la vittoria c'è solo il suo compagno di squadra feller bene tocca feller a battere sfida in famiglia sfida tutta austriaca a slamming quindi grande libidine e vantaggio di 89 centesimi più o meno è nella stessa situazione della ghisina la mattina non ho fatto in tempo a scriverlo pronti via 45 porte sbaglia completamente è fuori e quindi sfarz può godere come un riccio ha vinto a slamming lo slalom speciale maschile quindi la classifica finale e poi faremo la comparazione tra prima manche e seconda manche vede sfarza al primo posto poi due francesi potevano esserci due austriaci e un francese invece c'è un austriaco e due francesi sul podio perché sfarz vince noel è secondo pinturo recuperone paura dall'undicesimo al terzo posto e terzo fosse oleva che comunque zitto zitto cacchio cacchio un primo e un quarto posto nelle ultime due gare libidine al quinto c'è zenosen che è sempre lì come il prezzemolo dei 10 fisso dei 5 spesso popov è sesto corosci nuovo è settimo il nostro manfred burga alla fine ottavo perde solo una posizione va benissimo miliardo e nono pertl e decimo gross è quattordicesimo da segnalare pinturo undicesimo che quindi sfiora sfiora proprio sfiora appena appena il decimo posto però undicesimo più tredici posizioni come si suol dire si è salvato in corner adesso andiamo a vedere tra la prima e la seconda manche cosa è successo colosci lo era decimo nella prima manche ha recuperato tre posizioni e settimo popov era nono e anche lui recupera tre posizioni perché è sesto grange era ottavo ed esce dai primi dieci bolghe era settimo perde una posizione cina e termina ottavo ma va bene lo stesso sfars era sesto e vado libido a vincere la gara noel era quinto e alla fine è secondo secondo quindi recupera anche lui tre posizioncine sale sale se noi se era quarto alla fine quinto ma va bene va bene comunque dai perdere una posizione cina sei lì sei lì matt era terzo ma ahimè è uscito fosse olebar era secondo e alla fine è quarto e va bene così e feller era primo e anche lui ahimè le burlaggio come se dice a milan e quindi butta via la la gara detto questo ragazzoli come sempre lo slalom speciale regala gioie gioie e dolori perché quelli che magari della prima manche dice che bello sono primo vado sul podio sicuro e poi fa la cagata e magari quello che è undicesimo e lì adesso vado giù a tutta spacco su tutto vado sul podio e va sul podio è il bello e il bello e il brutto dello sci soprattutto quando ci sono le due manche ma succede anche nelle velocità perché nelle gare veloci magari la pista si velocizza come si suol dire spunta il sole mentre magari i primi sono scesi con col duvolo eccetera spunta l'occhiatona di sole si scalda un attimino la pista si velocizza scende uno col 50 e va a vincere la gara in maniera clamorosa comunque ragazzoli detto questo io vi saluto vi ringrazio è sempre un piacere parlarvi di sci e ci vediamo ai prossimi video ciao